7 piante che attraggono energia positiva della tua vita Alcune correnti filosofiche come il Feng Shui attribuiscono il potere di attrarre e trasmettere energia positiva ad alcune piante, fiori ed erbe Secondo alcuni studi, alcune piante possono promuovere le energie positive e dare una sensazione di benessere, di seguito te ne elenchiamo 7 Artemisia. A questa pianta sono stati attribuiti nell'antichità tanti poteri magici. Ha una grande forza capace di neutralizzare la negatività e raggiungere la felicità. È possibile anche preparare un amuleto con le sue foglie per allontanare le vibrazioni negative Lavanda. Questa pianta promuove l'equilibrio energetico armonizzando l'energia spirituale. È l'ideale per le persone che sono spesso giù di umore. Cactus. Possono essere molto piccoli, ed è per questo che è possibile piazzarli sulla scrivania. Hanno il potere di attrarre energia positiva Crisantemo. Anche se nella nostra cultura sono spesso associati alla morte, secondo il Feng Shui questi fiori danno una sensazione di benessere Felce. Combatte la solitudine ed è l'ideale per le persone che stanno vivendo problemi sentimentali. Allontana la sfortuna e cura la tristezza. Gira soli. Danno armonia, pace, luce e coscienza. Si suggerisce di piazzarli all'ingresso di casa per impedire l'ingresso di energie negative Salvia. Una pianta conosciuta per i suoi benefici, può essere usata per allontanare le energie negati. Mettila su una finestra, il suo aroma darà buon umore.